L'evento Call for Brain 2014 e la proiezione dei video che abbiamo visto oggi sono come sempre i video TED, sono sempre uno spunto di creatività e di innovazione. L'evento si ruota, oggi è ruotato intorno a degli elementi di notevole importanza, soprattutto ad esempio ho trovato mirabile il rapporto con l'effetto placebo, il rapporto con le motivazioni, cioè con gli aspetti che in realtà possono diventare strumenti operativi per una migliore riabilitazione anche di chi abbia avuto uno stroke giovanile.